Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Bottle and Farm Siamo al monumento perché devo levare un paio di cartelli Questa creeper face, molti mi hanno scritto nei commenti guarda che è questa Anch'io nello scorso episodio ho detto ma secondo me potrebbe essere quella Però altri commenti mi hanno detto guarda se vai a cercarla alla punta della bottiglia dovresti trovarla Quindi direi che possiamo fare una missione di questo tipo A parte il lettuccio che non è notte quindi non me lo fa fare Sicuro? Sicuro? Mi sa che è sicuro Potremmo provare ad andare alla punta della bottiglia Ora non so davvero come è sviluppata Questa non è una mappa, l'avete capito ormai come le altre Non si basa sul completare obiettivi per andare avanti E' un mondo tipo minecraftita in cui ti dice lui cosa devi fare E' un po' più agevolato perché ti da degli aiuti tipo le ceste e le cose Però il principio è quello Allora se io faccio una scala, un piccolo tunneletto così No, ok abbiamo un problema Mi avevate detto che c'era la testa del creeper sul tappo della bottiglia Ma io qua non la vedo Non c'è Ah, e se per tappo della bottiglia intendevate proprio quella cosa lì Quella testa che ho visto io prima Perché effettivamente, ora che ci penso eh Ma la faccia del creeper è sulla bottiglia Sul tappo della bottiglia E' molto stupida come cosa in realtà Ma io posso andare qua sopra Tutto a bedrock E' tipo bugato, posso vedere attraverso Tipo là vedo che c'è, un creeper Là vedo che c'è quella cesta particolare Che io vorrei tanto tanto raggiungere Ma io ci sono anche stato in quella zona, vedi? Ci sono delle torce Quindi posso raggiungerla Ok Ok, qua c'è anche del legno che mi porta non so dove Sinceramente non mi interessa troppo Sì, questo è il tappo della bottiglia E la testa del creeper è sul tappo Qui teoricamente io l'ho trovata la testa Interessante Interessante Una conoscenza un po' strana ma è interessante Posso anche buttarmi da qui in realtà Così risparmi il tempo Ok scherzavo c'è la bedrock Cazzo mi tocca fare il giro È un tipo troll Mi ha cercato di trollarmi In realtà c'è riuscito perché guardate dove sono ora Però Diciamo che ho comunque vinto io Più o meno Ok Interessante Others, dov'è Others? Dov'è, dov'è there? Fine creeper face Grazie amico l'ho trovata Grazie mille Fine lava source l'ho trovata Non l'ho presa ma l'ho trovata La mia ancora non l'ho trovata Però Fine clay No non l'ho trovata Era un bug quello dello scorso episodio Cazzo è vero Make a fishing road Questo possiamo farla subito E anche la mushroom island A trovare l'abbiamo trovata Devo solo entrarci Comunque mi avete detto tutti Surreal fatti la La canna da pesca Perché è la tua unica fonte di cibo come si deve L'unica cosa è che se non è la 1.7 Non vorrei che ci fosse ancora il metro di pesca quello scemo E per scemo intendo quello la che ci mette 40 ore Per darmi un pesciolino di merda Mi sa che era la 1.8 quello nuovo Ehi Aia In effetti potrei anche fare la prima E darla 1.8 Perché non usano command block di nessuno Una patata Buongiorno signora patata Come la va? Tutto bene? Sono contento per lei Però sento altri zombie qua Andatene a quel paese Allora Prendiamo solamente il piccone La pala E delle torce Mettiamo delle torce Usiamo il charcoal per farle però Facciamo così Farà papero No ma sei scemo Fammele tutte Efficiente Eccoli qua Muy bien Dov'era? Quella zona? Qua ho delle torce quindi potrebbe essere qui O la palla al piccolo dovrebbero bastarmi C'era del verde Eccolo qui Per forza qua dentro Ossidiana Che cazzo è l'ossidiana? Ne l'avevo vista Veloce muori Ok Scavi un attimino Per protezione più che altro Perché Meno che è un tunnel dove la gente non può avvenire Ok Ho paura che la possa spawnare qualcuno Mi farebbe un po' Di male Allora Prendiamo a sedere qua Tanto andiamo a vedere Ah Trovata Un po' Un po' di roba Ok Quasi quasi importavo anche l'ascia a sto punto Apri Cazzo Ehm Potrei aver bisogno di un'ascia Sì Potrei aver bisogno di un'ascia A meno che non ci sia Un blocco vuoto qui vicino all'ossidiana Ah ah la vedo un blocco di terra Lo vedi quella No cioè non è terra È erba Ok ho bisogno assolutamente Di un Di un'ascia Andiamo a craftarla Interessante Interessante anche il fatto che sono morto come un deficiente Madana Sembra non per micabasisi Sti scheletri di verde Madonna Davvero Non lo so Le torce le ho là Quindi Buttiamoci a capofitto Se avrebbe anche dell'armatura Il problema è Le mucche Non ne ho le mucche Dovrei provare A trovarne un paio E a farmi la farm Allora Buongiorno Buongiorno Non mi colpire Ok Ho preso tutto Non ho anche il piccone Non avrei fosse sceso qua A qualche parte Cazzo Ma no ok Qua non è vuoto Dove è il piccone? Wow friend Eccolo qua il piccone Facciamo Così Tua zia Mori Mori In assenza di una spada Uso l'ascia Che è lo strumento Che fa più danno Che ho Nel mio inventario Allora Ecco Già così va molto meglio Cerchiamo di entrare qua dentro Tanto questo Tra l'altro È un altro achievement No perché Ho trovato L'ossidiana Cazzo Ma vuoi dirmi che devo spaccarla a mano? Ma no Dai raga Ma Mi vuole male Screatorista Mappa Quanto L'ossidiana c'è Non vorrei che la stanza di mushroom fosse Chiusa all'interno dell'ossidiana Avrebbe un minimo di senso in realtà Neanche troppissimo però Perché io in un minuto Comunque riesco ad entrare qua dentro L'unica cosa è se è proprio qua dentro O ci sono più strati di ossidiana Se ci sono più strati di ossidiana La piglio un po' nel di dietro Però Ti dico che ci provo lo stesso Provo ad aprire raga Ci vado Ragazzi Non è divertente Quattro minuti Per spaccare un pezzo di ossidiana a mano Almeno ho trovato Sta roba Ma porcagna Quella cagna Ma Ma lì se il suo piccolo va più veloce Ok no Ci vediamo tra altri 5 minuti Cazzo Ragazzi cosa sta succedendo Lo scheletro mi sta colpendo Ma io Sto continuando a spaccare l'ossidiana Non capisco Ne come Ne perché Ma finché non muoio Sono contento Ragazzi Penso sia un qualche tipo di magia Una benedizione Guarda Lui mi Raga Non so cosa stia succedendo Penso mancherà Mezzo minuto Boh Ok Ho sentito l'ossidiana rompersi Non mi sento più il dito Cazzo Vabbè Quindi ora mi giro L'attacco 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 La madonna Peglia tutto 11 diamanti Che fai? Pegli per culo Ma molto volentieri La prendo Qua ci sono dei mushroom C'è dell'acqua Cosa c'è sotto l'acqua? Della clay? No Purtroppo no E vabbè Sciala Riportiamolo A casa Con questa Ma passando Molto Ma molto Veloce Potrebbe giurare Anche solo una decina Di episodi Oh la madonna No Che cazzo ho fatto Uccidetevi tra di voi Grazie Uccidetevi tra di voi Non mi colpite Cazzo Andiamo a riprendere la roba Veloce Importante Veloce 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 Sali 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 Hai sbagliato Strada Deficiente Corri Corri Su un coglione Dai Dai Allora Buttati 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 Prendi la roba Prendi la roba Com'è Ora mi dà le achievement diamonds Tu mai me lo dava Cosa è La testa di cazzo Dammi la cetta Dammi la cetta Ti uccido con la cetta Ti uccido con la cetta Ti uccido tantissimo Ti uccido tantissimo Ce la fa No 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 Dai dai Che manca poco Oddio si è bugato Ci sono ci sono ci sono Rilogato Tutti salvi Tutti salvi raga Su da save the day Guarda quanto è cazzo di freccio Il macello freccioso No 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 Non mi colpire Tu azia fa le cagnate Ma tu lo dì Proprio lo sai No 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 Ma quella cagna Devo solo riportare i diamanti a casa Ci riferisci a capire Spero anche No Dai Dammi la cetta Dammi la cetta Dammi la cetta Mori Cagna bastarda Non mi colpire E E Piccone cazzo Mi sono preso il piccone Veloce Veloce Sali Il resto te lo crafti C'hai 11 diamanti Porcagna Sali 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 Merda Ma perché Spona sempre Qua è la merdoccia Di sua mamma Ce la fa Non mi colpire Non mi Ti ho detto Non mi colpire Infame Tu mamma Quella Ok mi ha dato anche l'arco Buono 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 Vuoi salire per favore Sali 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 Ti prego Ti prego Dai Dai No 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 Non lo accetto Non lo accetto Madonna Ma io Non lo so Ma per davvero Per davvero Lo uccido Rompo Rompo lo spawn Rompo lo spawn Cazzo mi frega Rompo lo spawn Rompo lo spawn Altanto Non mi fai un cazzo Non mi fai un cazzo Se non la smetti Madonna Ti tiro una spicconata Nell'ano proprio La smetti Di colpirmi Perché sei così veloce A colpire Quella merda Di Mori Non è morto Non è morto Non è morto Gli spara di quel cazzone Ok Sali 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 Perché sei così lento A salire Quella merda Di scampo Devi fartela Surri Madonna Veloce Veloce Là ci sono le uova Per i galli Per i galline Sali Sali Cazzo Dai Ok 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 Mamma mia Per 11 diamanti Manco fossero uno stack Ok Posso tutto qua dentro Devo andare a riprendere Anche le uova Ok Prima andiamo a scrivere Gli achievement Un attimo Lo faremo poi Lo faremo poi Comunque per questo video Tutti un gasto Di sopravvisione Vi ricordo di lasciare un Mi piace Se vi piacere In questo video Di iscrivervi al canale Se non l'avete fatto Ciao Tutti